Con il primo giorno del mese di luglio si sono aperte le immatricolazioni all'Università del Molise per l'anno accademico 2024-2025. Prospettive, conferme, novità e vantaggi di iscriversi sono state illustrate dal rettore Luca Brunese. Dopo il grande successo dello scorso anno legato ai sette nuovi corsi di laurea che ha portato naturalmente oltre il 10% di aumento delle immatricolazioni, la scommessa di quest'anno è innanzitutto mantenere questo livello. Noi siamo convinti che il successo che i corsi hanno avuto è la nostra migliore garanzia di tenerci su quel livello di iscritti, naturalmente quindi di aumentare ulteriormente. Anche per quest'anno le novità non mancano. Nell'offerta formativa abbiamo un nuovo corso di laurea che è la magistrale di fisioterapia, io lo dico nel modo più semplice possibile, che completa la filiera del corso triennale magistrale come abbiamo già in altri corsi di laurea delle professioni sanitarie. È un corso che sicuramente avrà successo, fa parte di quelli a numero programmato, di quelli che diciamo questi anni hanno avuto nella nostra università ottimi risultati. Un'offerta formativa completa e trasversale è quella di Unimol articolata su 41 corsi di studi, 19 triennali di cui una in doppio titolo internazionale con l'Albania, scienze turistiche, 19 magistrali di cui due in doppio titolo internazionale con Svizzera e Argentina e tre magistrali a ciclo unico. La scommessa è il grande rafforzamento del rapporto con la comunità degli studenti, quindi tante cose nuove, rafforzare il rapporto, in particolare avremo una nuova area break con punto ristoro in un posto anche particolarmente visibile all'interno dell'Ateneo, che è il segno dell'importanza che noi vogliamo dare a questa richiesta degli studenti e poi sarà rinnovata completamente la biblioteca, ci saranno tanti servizi nuovi per aumentare la fruibilità, anche in termini orari, visto che gli studenti naturalmente ce lo chiedo. Se l'antipasso è stato l'incontro che abbiamo fatto con la nostra comunità, i docenti, il personale tecnico e l'amministrativo per le partite dell'europeo, diciamo ci aspettiamo grandi risultati quest'anno.